Ciao amici, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Claudia, oggi parliamo non solo di moda ma di un argomento veramente che ha fatto infuriare l'internet. Allora, ho postato un video su TikTok su questo argomento, se non mi seguite su TikTok vi consiglio di farlo perché ho capito come gestire il mio canale YouTube, cioè io lancerò dei video su TikTok e in base anche ai vostri commenti e tutte le reazioni che ci possono essere a quel video ne facciamo uno più approfondito, più completo, più discussione qui su TikTok. Dicevo, ho fatto un video in cui parlavo del problema delle donne nella moda, ho elencato quelli che secondo me sono i problemi sotto vari punti di vista eccetera e sono stata bombardata, bombardata da gente, 99,9% uomini, che mi dicevano che tutto questo è assolutamente falso. Così ho pubblicato un altro video dove citavo delle fonti, che dirò anche qui, dove ci sono dei giornalisti e degli esperti che parlano di questo problema, quindi non è che io me lo sia inventato, così esiste. Comunque, partiamo subito appunto da queste fonti. Allora, il primo è un articolo di Giuliana Matarrese per l'inchiesta, è un articolo molto interessante che parla, analizza questo problema in maniera seria, senza clickbait e senza andare un po' nel drama, è un articolo molto serio e molto bello. Dopodiché vi consiglio l'articolo del New York Times di Vanessa Friedman, che già nel 2018 si è posto a questo problema, quindi non è esattamente qualcosa che è nato così, di un momento o all'altro. Infine poi vi segnalo l'articolo di One Grinary, che ha fatto proprio una serie di interviste donne che lavorano nel settore moda, per sapere che cosa ne pensassero della questione e hanno pubblicato i risultati. E poi c'è un famoso report, quindi con dati alla mano, che ha un po' indagato questa questione delle donne all'interno del lavoro della moda. Ho fatto questa premessa senza però dirvi effettivamente di che cosa parleremo nel nostro video di oggi. Sarà sulle donne perché, diciamo che per quanto si pensi che la moda sia una cosa da donne, in realtà non è vero, perché è un settore che è altamente dominato da uomini. Bene, questa affermazione è quella che ha fatto infuriare il TikTok e l'internet in generale, ma adesso andremo bene a vedere la situazione. Il punto qual è? Il punto è che noi guardiamo dei dati statistici di percentuale di donne e uomini che frequentano scuole di moda ed escono da scuole di moda. È circa 90% donne, ve lo dico. Questo dato varia un po' in base a paese a paese, può essere 95, può essere 85, può essere 80, comunque non scende mai sotto il 70-75%, quindi è una stragrande maggioranza di donne. Bene, se noi guardiamo quante direttrici creative ci sono al momento nella moda che non siano ereditiere, come nel caso di Miuccia Prada, come nel caso di Donatella Versace, come nel caso di Silvia Venturini Fendi, perché ovviamente hanno ereditato, ok, la loro posizione, perché si tratta di aziende di famiglia. Sapete quante donne ci sono alla carica di direttrice creativa? Quattro. Le andiamo a nominare, la prima è Maria Grazia Chiuri da Dior, la seconda è Virgin Viard da Chanel, la terza è la direttrice creativa del reddit tour di Hermès, che mi dispiace non so pronunciare il suo nome, non vorrei dire cavolate, quindi ve lo scrivo qua. La quarta è la nuova arrivata che è Shemena Kamali, che è la nuova direttrice creativa di Chloe. Quindi il punto della situazione era questo, cercare di capire perché passiamo da un 90% di studentesse donne a un percentuale estremamente bassa quando si parla di cariche importanti. Io ho fatto delle riflessioni sotto questo punto di vista, che ora vi dico se riesco a trovare la pagina. Vi dirò la mia su quelle che sono state le principali accuse alle donne in riguardo a questo argomento. La prima è che le donne si pensa che disegnino molto più volentieri abiti pratici, comunque pensino di più alla funzionalità dell'abito, che non invece alla parte creativa. Questo sorge pensando a nomi come ad esempio Virgin Viard, perché si è visto il cambio di direzione da Carla Graff e da Virgin Viard, pensiamo alla Sistema di Grazie Chiuri, che sono abiti diciamo un pochino più pensati per la comodità e comunque la quotidianità, anche quando si parla di cultura. Bene, questo appunto può essere vero per certi versi, ma non lo è per altri, perché se guardiamo la storia della moda, le donne hanno avuto dei ruoli anche molto differenti. Pensiamo a Reika Wakub con Comme des Garçons, pensiamo a Dan de Molmister, pensiamo a Vivian Westwood. Nessuno di questi faceva vestiti pratici comodi con cui andrà al supermercato. Quindi dipende, chiaramente ogni designer ha il suo stile, ha il suo approccio alla moda e quindi dipende sostanzialmente. Se poi pensiamo anche a designer emergenti, pensiamo a Dilara Findicoglu, pensiamo a Collina Strada, pensiamo a Simone Rocha, pensiamo a Tolinger, a Elena Velez, nessuno, nessuno di questi fa abiti comodi. Secondo punto, le donne direttrici creative non hanno lo stesso riscontro positivo degli uomini. Anche qua falso, appunto sempre guardando ad alcune magari direttrici creative che sono meno benvolute di altri. Questo però vale anche per gli uomini, ok? Non è solo un discorso di donne. Ma ricordiamoci però che ci sono state delle donne direttrici creative che hanno avuto un enorme successo. Pensiamo a Phoebe Filo. Pensiamo comunque a Sarah Burton, che ha lavorato 13 anni come direttrice creativa di Alexander McQueen e ha avuto un grande successo. Pensiamo anche a Claire Wade Keller, che adesso non si sente più tanto, ma è stata una grande direttrice creativa. Quindi anche questo punto secondo me non è vero. Terzo punto, ci sono poche donne nel settore? Sì, questo effettivamente è uno dei problemi. Più le posizioni sono alte, meno donne ci sono. Quindi di conseguenza sarà più improbabile che una donna venga scelta come direttore creativo. Va bene, però questo è un cane che si morde la coda. Cioè il punto è cercare di capire perché non ci sono delle donne, o così tante donne quanto gli uomini, in cariche prestigiose. Nonostante questo, se pensiamo alle nomine dello scorso anno, nel 2023, che è stato il record delle nomine di direttori creativi, ne sono stati nominati 12. Di questi 12, una sola era una donna. Quindi se pensiamo ad un rapporto da 1 a 11, perché c'era una donna e 11 uomini, non credo che nel settore sia questa la percentuale delle donne presenti di meno del 10%. Mi risulta molto difficile. Quarto punto, non ci sono donne adatte. Anche qua, falsissimo, perché nel panorama ci sono tantissime donne assolutamente valide e competenti. Non solo donne che hanno già una posizione all'interno del settore, quindi che magari non conosciamo, ok? Perché sono insider. Ma ci sono tantissime nuove designer emergenti o comunque che hanno fondato il loro brand e che stanno andando molto bene. Pensiamo a Martin Rose, pensiamo a Grace Wales Banner, pensiamo appunto a Colina Strada, pensiamo a Otto Linger, insomma pensiamo anche a Simone Rocha, che appunto disegnerà la collezione Couture, che uscirà tra pochi giorni in collaborazione con Jean-Paul Gaultier. Quindi diciamo che non mancano le donne, perché ce ne sono tante che potrebbero ricoprire le cariche di direttrici creativi, semplicemente non vengono nominate. La mia teoria alla fine di questo era che le donne non vengono nominate, nel mio TikTok ho detto per il patriarcato ed è venuto giù veramente di tutto. Il concetto non è tanto dire la parola patriarcato che a quanto pare non si può più dire perché è super utilizzata anche in contesti in cui non c'entra niente. Il mio punto era che le donne non vengono nominate in cariche prestigiose per una questione di controllo. Cioè è l'uomo che vuole avere il controllo anche dal punto di vista creativo, non solo comunque finanziario e amministrativo, perché vi ricordo che praticamente tutti i CEO sono uomini. Vogliono avere anche il controllo dal punto di vista creativo, quindi avere il controllo totale di un mercato che vende tantissimo, molto remunerativo e che vuole decidere che cosa le donne andranno a comprare. Quindi è proprio secondo me una questione di controllo. Da questo mio discorso ci sono stati diversi commenti e diverse considerazioni che possiamo valutare insieme. Il primo commento, uno dei più gettonati, era un discorso di competenze. Cioè molte persone mi hanno detto io non vedo un problema di misoginia nella moda, vedo solamente il fatto che scelgano per competenze. Ci sono delle grandi aziende che pensano esclusivamente ai numeri, non sono lì a vedere chi è maschio e chi è femmina, semplicemente quello che è più competente lo mandano fuori. Allora io onestamente non sono d'accordo perché questo vorrebbe dire che più del 90% delle persone competenti nel settore sono uomini. E non ha molto senso se consideriamo come prima il fatto che ci siano 90% delle donne che escono dalle scuole di moda. Quindi cioè su 100 studenti 90 sono donne, 10 sono uomini e fatalità quei 9 uomini, ok, sono 9 uomini e mezzo, sono comunque più competenti di tutte le altre 90 donne. Cioè con i numeri secondo me non ci siamo, non ha assolutamente senso. E poi bisogna anche capire in che modo questi uomini siano più competenti. Nel senso quando c'è una percentuale così alta di uomini in carica non è a quanto pare una questione di competenze tecniche perché uomini e donne fanno le stesse scuole. Non si tratta di competenze tecniche a questo punto ma possiamo dire competenze di genere perché altrimenti non si spiega. Altri due commenti che mi sono stati fatti che sono collegati tra loro è che gli uomini, gli uomini che lavorano nella moda sono uomini che assolutamente vogliono fare questo lavoro perché comunque lottano contro appunto lo stereotipo che vede principalmente la donna nella moda invece che l'uomo. Contemporaneamente la donna generalmente è meno spinta, ok, al successo, tende un po' ad adagiarsi e quindi non riesce ad arrivare in alto. Allora posso comprendere il discorso dell'uomo determinato nella moda perché appunto ce ne sono meno di altri settori e quelli che decidono di fare moda sicuramente sono molto determinati. Però anche qua secondo me c'è un problema di numeri, vorrebbe dire che praticamente nessuna donna aspira ad una posizione di comando e questo è smentito dalle interviste che sono state fatte come ad esempio quella che ha fatto One Griner, rimane trovate tantissime. Un'altra accusa, questa sinceramente mi ha lasciato un po' così, era un ragazzo che mi ha detto sì ma se tu consideri la discriminazione delle donne nel sistema moda dovresti anche considerare la discriminazione degli uomini etero perché comunque la maggior parte dei direttori creativi o comunque uomini che lavorano nella moda sono gay. Questo è assolutamente vero, nel senso la maggior parte degli uomini sono gay, è un settore altamente dominato dagli uomini gay, va bene. Consideriamo anche il fatto che solitamente gli uomini gay vengono discriminati in altri settori, quindi diciamo che è uno dei pochi settori dove hanno piena libertà di espressione, ok? E questa è sicuramente una cosa positiva. Però diciamo che non è così, nel senso non è così perché dobbiamo contare che comunque ci sono più uomini etero come direttori creativi che donne. Quindi ricordiamoci la percentuale di prima, 90% donne, 10% sono uomini, mettiamo la metà, 5% sono gay, 5% sono etero. Sicuramente gli uomini gay hanno più successo, ok, di quelli etero, ma comunque stiamo lottando tra 5% e 90% e ancora ci sono più direttori creativi uomini etero che non donne. Ve ne dico alcuni fare il Williams, direttore creativo del Menstruo di Louis Vuitton è etero, insieme a Peter Hawkins che è direttore creativo di Tom Ford è etero, Matthew Williams è etero, Pier Paolo Piccioli direttore creativo di Valentino è etero. Insomma ve ne ho detti alcuni ma se indagate nelle loro vite private scoprirete che in realtà ci sono anche tanti uomini etero. Ora andremo direttamente a leggere altri commenti che ho trovato interessanti. Un commento che mi è stato lasciato appunto riferendo al discorso delle competenze. Prima di parlare di numeri bisogna pensare per quale motivo ci sono più uomini perché assumerle solo per numero minore non è giusto ma va fatto per meritocrazia. E poi bisogna pensare alle grandi icone del passato perché non sono correlate a quelle odierne. Allora il discorso è proprio questo la meritocrazia io mi rifiuto di pensare che esclusivamente gli uomini cioè siano più competenti. Secondo me non regge sempre per la questione dei numeri. Le donne non vanno assunte solo perché sono donne bisogna cominciare ad assumere le donne considerandole al pari degli uomini e non evitare di assumerle perché sono donne. Questo è il problema. Vi ci tengo a leggere anche questo commento. L'emisfero destro che è quello più creativo e tendenzialmente più sviluppato nell'uomo è solo statistica. Non aggiungo altro. Una volta il mio insegnante di design mi disse che gli uomini vengono scelti di più per diversi fattori. In primis si dice che le donne tendono ad essere più idealistiche e meno pratiche. Alla modo interessa fatturare alla fine è la massima esponenza del capitalismo. Le donne si medesimano troppo essendo abiti da donne e quindi si dice che gli uomini disegnano meglio abiti da donne e viceversa. Inoltre penso che culturalmente parlando le donne siano meno competitive perché gli viene insegnato ad essere così a differenza degli uomini. La moda è fatta anche molto di passaparola. Se una donna sta in alto si pensa si è venduta. Se ci sta un uomo è un grande e quindi si è il patriarcato. C'è perché sta ovunque non è che siccome è moda roba da donne non ci sia. Le donne sono più diligenti e in questo mondo vince chi calpesta l'avversario. Anche solo nell'ambiente accademico vedo le ragazze essere insicure e cercare approvazione. I ragazzi tendono ad essere strafottenti e ad andare dritti al punto perché sanno che non ci saranno ostacoli. Si parla culturalmente e non è una colpa, è un mindset con cui si cresce. Se una donna riesce sarà riconosciuta come iena e scalatrice sociale, un uomo no. Questo commento secondo me è molto interessante e va aggiungere due questioni al problema del patriarcato che sono gli stereotipi e la cultura. Sono d'accordo con alcuni punti ma mettiamoli tutti. Le donne tendono ad essere più idealistiche e meno pratiche e dato che gli abiti sono da donna si immedesimano di più. Allora qui diciamo che è un po' il contro del punto che avevo detto io all'inizio. Cioè a volte si dà colpa alle donne perché gli abiti sono troppo pratici, a volte a quanto pare si dà la colpa perché sono troppo idealistici. Sinceramente questi sono dei problemi di stile che ci possono essere anche da un uomo. Ci sono gli uomini che fanno abiti più concreti e invece uomini che disegnano abiti meno concreti. Secondo me non è legato al genere ma è legato proprio alla persona. Se noi consideriamo tutte le fashion designer presenti nel sistema ci possono essere veramente i poli opposti. Quindi io personalmente non credo che questo sia un problema. Culturalmente parlando le donne sono meno competitive. Allora io in realtà non sono molto d'accordo con questo punto, mi era già stato fatto anche prima. Secondo me le donne sono più competitive degli uomini, non solo a livello lavorativo ma anche nella vita. Cioè le donne purtroppo secondo me a volte sono più cattive perché c'è una competizione culturale. Nel senso che io vedo che le donne sono sempre in competizione tra di loro anche nella quotidianità, anche nelle cose più banali. Mentre gli uomini tendono a essere un pochino più amici tra di loro e comunque a fare più gioco di squadra. Sono certamente d'accordo nel dire però che a livello culturale l'uomo è stato abituato a fare il necessario per raggiungere posizioni di potere perché culturalmente questo è il mindset, contrariamente invece alla donna. Cioè sia a livello sociale sia a livello familiare di ognuno sicuramente c'è meno spinta in generale verso la donna che raggiunga il successo rispetto all'uomo, questo è vero. È vero anche collegato poi a questo discorso secondo me è vero che la donna tende a ricercare di più l'approvazione proprio per un discorso secondo me di insicurezza nel senso che è sempre stata meno spinta rispetto all'uomo alle posizioni di carica quindi a posizioni decisionali. Secondo me è un discorso molto generico che però se ambientato effettivamente nel concreto del sistema moda i numeri parlano chiaro. Mettiamo caso che alla fine le vere donne che vogliono raggiungere il successo della moda siano anche un 20% però si scontrano appunto con il 10% degli uomini quindi sarebbero comunque in maggioranza. Se questa cosa fosse vera vorrebbe dire che solamente del 90% solamente il 2-3% è veramente interessato al successo e questo per me non è credibile perché se guardiamo le percentuali di donne assunte nelle aziende troveremo un numero molto alto negli strati più bassi quindi operaie quindi impiegate e man mano che andiamo su le donne sono sempre meno. Però vediamo che effettivamente la donna inizia a lavorare e inizia a voler fare carriera se poi guardiamo nelle posizioni più alte le donne che ci sono, sono state anche intervistate alcune di loro comunque segnalano delle situazioni di discriminazione nei loro confronti quindi diciamo che io sono ancora nonostante appunto tutte le critiche che sono state mosse io sono ancora fermamente convinta che ci siano delle discriminazioni proprio a livello di genere un po' per stereotipi, un po' per cultura, appunto un po' secondo me è vero per patriarcato cioè per controllo, per una situazione di controllo ma fatemi sapere anche che cosa ne pensate voi, questo video è diventato eterno ma ci tenevo ad avere una conversazione un attimino più completa se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e assolutamente lasciatemi un commento con il vostro pensiero perché ci tengo ad avere un dialogo con voi grazie per essere arrivati fino a questo punto iscrivetevi al mio canale mi raccomando e ci vediamo al prossimo video ciao